Ci sono opere che sono vere e proprie icone, che le sono diventate e che rappresentano quindi un'immagine che tutti quanti noi abbiamo acquisito, interiorizzato. È il caso di questa opera che voi state vedendo in questo momento, si intitola Quarto Stato ed è stata realizzata da Giuseppe Pelizza da Volpedo tra il 1898 e il 1901. Non a caso questa è un'opera che oggi è custodita al Museo del Novecento a Milano, nel Parazzo dell'Arengario, guardando il Duomo, l'edificio che si vede sulla destra. E non a caso vi dicevo, questa è un'opera che dal 2010 si trova al Museo del Novecento a Milano, ma che in qualche modo appartiene alla città, non è semplicemente del museo. Infatti chiunque può andare ad ammirarla anche senza comprare il biglietto del museo, perché è messa in una sala ricavata in cima alla scala, allo scalone di accesso all'esposizione. In una sala, una nicchia, diciamo così, che è prima dei tornelli d'ingresso del museo. Di conseguenza è proprio un'idea di essere rivolta alla città, rivolta a tutti noi. Quest'opera è infatti un'opera che ha una storia molto particolare ed è un'opera che da un certo punto di vista apre al Novecento, apre ai temi che diventeranno i temi del Novecento. Innanzitutto parliamo del titolo Il Quarto Stato. A cosa ci si riferisce quando si parla del Quarto Stato? L'espressione deriva da un termine che veniva impiegato, che è stato impiegato durante la Rivoluzione Francese, che voleva designare le persone di uno stato sociale basso in alternativa alla borghesia, che era il terzo stato. Quindi Il Quarto Stato rappresentava questi ceti più umili socialmente fatti da personaggi appunto più poveri, più in difficoltà. Nel Novecento Il Quarto Stato verrà associato alla classe dei lavoratori, al proletariato, coloro che dispongono della prole come unico bene. E mi sento di dire che in fondo questa opera ha contribuito all'immagine che noi abbiamo del proletariato e appunto del quarto stato in sé. Allora, questa è un'opera, vi dicevo, iconica. Pensate che viene citata dalle scene iniziali di un meraviglioso film del 1976 di Bernardo Bertolucci, di cui vi mostro qui la locandina della versione restaurata, con un cast strepitoso e un film che ha fatto veramente storia e appunto il film si apre proprio con il primo piano di questo personaggio tratto appunto dal quadro di Pellizza, quasi a dire proprio che il Novecento, quel secolo, il secolo breve, quel secolo così contraddittorio, fa davvero il suo ingresso e forse ha protagonista il movimento delle masse. Tra l'altro, questo dipinto, vi dicevo, legato alla città di Milano in particolare perché dal 1920, quindi esattamente 100 anni fa, è stato acquisito tramite una specie di operazione di crowdfunding antelitteram, è stato acquisito dalla cittadinanza di Milano, della città di Milano. La sottoscrizione era stata voluta da alcuni intellettuali, alcuni dei quali lavoravano per il Corriere della Sera. Qui vedete il quarto stato esposto alla Galleria d'Arte di Lino Pesaro. Lino Pesaro era un personaggio intellettuale che appunto darà un certo impulso a questo tentativo di far acquisire l'opera alla città. Ma è stato una specie di grande sollevamento popolare, nel senso che appunto la città di Milano, che viveva degli anni Milano, la Lombardia, un socialismo risvegliato, la coscienza di classe dei lavoratori, ecco, avevano mosso le carte affinché appunto questa opera entrasse a far parte del patrimonio della città. E in questo momento al Museo del Novecento sarebbe in corso, fino al 31 di dicembre appunto 2020, sarebbe in corso una mostra che vuole ripercorrere proprio questa acquisizione attuata cento anni fa. L'opera era stata pensata per la quadriennale di Torino del 1902 e Pellizza sperava di, che viveva comunque in uno stato indigente, anche di prostrazione fisica e psicologica, sperava di poterla vendere, di poter avere un certo successo con quest'opera, ma le cose non andarono in questo modo, anche se l'opera verrà stampata su alcuni opuscoli, sulle riviste politiche di quegli anni, su una rivista che si chiamava Leggetemi al Manacco per la Pace, per commentare un articolo di Edmondo De Amicis, ma anche su altre riviste di stampa socialista. Quindi davvero è simbolica, legato a un pezzo della nostra storia. L'opera poi entrerà a far parte appunto, verrà una volta acquisita, verrà acquisita pensate con questa sottoscrizione pubblica per il valore di 50.000 lire del 1920, poi dal 1921 sarà esposta alla Galleria d'Arte Moderna, la GAM, e poi passerà al Castello Sforzesco nella Sala della Balla. Negli anni 50 verrà poi, durante l'epoca del fascismo viene in qualche modo fatta sparire, diciamo perché il tema proposto era spinoso e quindi viene tolta dall'esposizione pubblica, ricomparirà negli anni 50 e verrà appunto installata nelle sale di Palazzo Marino, il Palazzo del Comune di Milano, fino al 1980, poi tornerà alla Galleria d'Arte Moderna e dicevo dal 2010 entra nella collezione del Museo del Novecento. Questa lunga storia che vi ho fatto è relativa agli spostamenti dell'opera, però vi dà anche l'idea della coscienza civica che ha smosso, del movimento. È un'opera che ci parla del movimento delle classi operaie, ma allora il movimento che ha generato il far parlare, il portare in primo piano la classe di lavoratori sicuramente è un tema che diventerà centrale nel Novecento, ma che davvero possiamo attribuire come valore universale a quest'opera. Certo, vi dicevo che forse per la prima volta vengano rappresentate le persone, la folla, la massa. C'era stato un qualche precedente in un contesto geografico, culturale, politico molto diverso. Vi sto mostrando in questo momento il campo di battaglia di Waterloo, di Turner, esposto nel 1818 e oggi parte della Tate Gallery di Londra. Vedete, in questo caso avevamo parlato, avevamo commentato il fatto che in questo campo di battaglia che mostrava le vittime delle due parti politiche avverse, l'esercito napoleonico e i coloro, i prussiani e gli inglesi che si erano opposti, gli alleati che si erano opposti a Napoleone. Ecco, in questo caso era la folla indistinguibile in modo abbastanza sconvolgente. Turner aveva già, anzi farà qualche anno dopo, di nuovo una grande concessione alla presenza della folla, del pubblico, della massa indistinta. Nel Novecento è il secolo delle masse, della folla, noi siamo massa. E Turner nel 1834 aveva dedicato due diversi dipinti all'incendio della Camera dei Lord e dei Comuni per celebrare questo incendio che aveva distrutto il Parlamento inglese Westminster e vedete appunto la folla adagiata sull'embankment e sul ponte per assistere meglio o noleggiando delle barchette come aveva fatto lo stesso Turner per poter dipingere meglio lo spettacolo impetuoso, dirompente del fuoco che divorava il Palazzo del Potere. Ma erano stati dei precedenti romantici, quindi con una visione molto molto diversa, anche se pittoricamente davvero fortissimi. Facciamo un salto in avanti, alla metà dell'Ottocento ovviamente il padre del realismo, Courbet, aveva sicuramente proposto una versione, anche in questo caso di grande shock emotivo per la presenza delle persone della folla, in questo caso vi sto mostrando in particolare il funerale a Ornan, il paesino da cui lui proveniva, un'opera che aveva stato all'epoca grande scalpore appunto per la presenza di questi compaesani, concittadini che avevano fatto a pugni, si raccontano le storie, le cronache, per essere immortalati in questo dipinto come fosse una specie di spazio, luogo della ribalta. Ma andiamo a capire un po' meglio l'opera di Pellizza. È un'opera molto complessa, alla quale Pellizza da Volpedo lavorerà per un decennio. A partire da questo primo bozzetto che lui elabora, farà tantissimi disegni, bozzetti e come dire studi preparatori o quadri preliminari, a partire da questo dipinto che si intitola, questo bozzetto dipinto che si intitola Ambasciatori della fame che risale nel 1892 e che Pellizza aveva realizzato immortalando una manifestazione di protesta che c'era stata a Volpedo, la sua cittadina di nascita in provincia di Alessandria, per manifestare appunto per i prezzi o per il maltrattamento dei lavoratori o per il prezzo del pane. Il prezzo del pane sarà un tema che tornerà forse, anzi in realtà, in modo più importante per altre manifestazioni di cui vi racconterò tra poco. Guardate come il punto di vista scelto in questo caso sia abbastanza basso, schiacciato. Guardate la presenza di questa linea, di questa ombra che in fondo risente di questo taglio un po' del affreggio delle opere ottocentesche. Siamo ancora nell'800, 1892, vi dicevo, ma l'ambientazione è proprio quella, la piazza, la piazza Malaspina credo si chiami appunto, di Volpedo, dove questa manifestazione aveva avuto per davvero luogo, quindi guardate l'ambientazione, è proprio questa, una foto d'epoca. Vi faccio notare anche questo taglio fotografico, dell'obiettivo fotografico, ma che creerà una specie di arco ribassato che poi vedremo comparire a un certo punto nell'elaborazione del dipinto che porterà poi al quarto stato. Scrive Pellizza, la questione sociale si impone, molti si sono dedicati ad esse e studiano la cremente per risolverla. Anche l'arte non deve essere strana a questo movimento verso una meta che è ancora un'incognita, ma che pure si intuisce dover essere migliore a petto delle condizioni presenti. A me interessa in particolare questa parte, la questione sociale si impone, anche l'arte non deve essere strana a questo movimento verso una meta, ancora incognita, ma che deve essere migliore. Allora c'è il movimento, questa massa di contadini che avanzano evidentemente nella testa di Pellizza, contadini, operai, lavoratori che avanzano, che nella testa di Pellizza evidentemente già stavano lavorando, muovendosi appunto dentro di lui. E l'arte non può essere strana alla questione sociale, ecco perché secondo me quel dipinto è davvero l'inizio di una nuova era, di una nuova epoca, ecco perché all'ingresso del museo del Novecento davvero ci introduce a quello che è un secolo di profondo cambiamento rispetto all'Ottocento, non è soltanto una data 1899, 1900, 1901, è proprio un cambiamento che è epocale. Ma dopo aver realizzato questi ambasciatori della fame che vedevamo, Pellizza andrà avanti nell'elaborazione, come vedete questa massa che si muove in avanti, che si muove come dicevamo, ci lavorerà a questo tema producendo altre opere. In particolare vi sto mostrando questo dipinto che si intitola Fiumana, oggi custodito alla Galleria dell'Accademia di Brera, sempre a Milano, realizzato tra il 1895 e il 1896. Scusate non vi ho dato le dimensioni del quarto stato per farvi capire, perché vi parlavo di una opera imponente e a freggio che riprendeva anche nelle dimensioni l'impostazione del funerale Ornan di Courbet. E' un'opera, pensate, che misura 293 cm per 545, 5 metri e mezzo per quasi 3, a testimonianza che Pellizza voleva portare la classe dei lavoratori a dimensione monumentale, ma anche a dimensione reale. Noi trovandoci al Museo del Novecento davanti ai personaggi ci sentiamo coinvolti uno a uno davanti a questa folla che avanza. Ora, questa idea, questa impostazione, vi dicevo, verrà ripresa in particolare in questa opera Fiumana. In particolare in Fiumana compaiono, rispetto, avete visto, agli ambasciatori della fame, compare la massa di persone in modo molto più imponente, compare anche qualche personaggio femminile, anche se in particolare questo personaggio femminile che poi vedrete trasformato sarà la sua compagna, la sua moglie, quella che poi darà il volto, le sembianze al personaggio femminile del quarto stato. In questo caso vedete che in realtà risente ancora di un trattamento che mi sento di dire ancora assolutamente ottocentesco, aggraziato, quasi art nouveau, mi viene da dire, anche se poi per noi l'art nouveau avrà a che fare con, sì, fine ottocento, inizi novecento, ma ancora una grazia femminile Liberty, ecco, che comunque resta sempre a cavallo tra otto e novecento, ma ancora con un immaginario della donna che è ancora un po' lontano. Anche se vengono introdotti in questo caso anche i personaggi delle contadine, le mondine piemontesi, no, che voi sapete che le campagne tra Milano e Torino anche oggi sono coltivate a risaia, forse non ci facevamo mai caso perché ormai imboccando l'autostrada non ci guardiamo tanto neanche intorno, ma abbiamo queste campagne di risaie, no, e quindi immaginatevi che in quegli anni anche le donne lavoravano in questi campi era veramente una realtà molto concreta, ma il nostro Pellizza sta andando quindi in direzione di un realismo che però diventa monumentale, qualcosa che ci propone queste figure a grandezza reale, con una presenza che diventa quindi fisica, ma anche una presenza morale, un realismo che diventa imponente, monumentale, ma vedete che il nostro, scompare l'ombra in primo piano e i personaggi sono illuminati in modo quasi, fatemelo dire, quasi artificiale, tornerò su questo discorso di illuminazione tra poco quando parleremo in realtà dell'opera in sé, del quarto stato, scusate la lunga premessa, ma occorre mostrarvi il lungo cammino, è il caso di dirlo, che Pellizza ha compiuto per arrivare alla versione definitiva, ma vedete che l'opera è rimasta incompiuta, Pellizza non ha completato questo movimento, questi passi che avanzano dei personaggi, anche se molto bello, secondo me l'effetto di questa massa quasi fantasma che ci evoca il movimento, voi sapete che immaginate un prima e un dopo, con queste ombre già colorate che devono raccontarci di un passo che ancora non è stato compiuto, che verrà compiuto, questa folla che avanza, il futuro che avanza, questa è una tela non grande quanto l'alta, ma è grande, 255 per 438, anzi in realtà vi ho dato forse le dimensioni di un'altra tela, perché vi farò vedere tra poco, sì esatto, vi ho dato le dimensioni di un'altra tela che è il cammino dei lavoratori, vi mostro tra poco, ma per completare il discorso su Fiumana, a fianco, a margine della tela, lo stesso Pellizza aveva scritto un testo che doveva in qualche modo commentare, appunto questa Fiumana, Fiumana pensateci, anche il titolo, se prima era gli ambasciatori della fama, erano tre sparuti personaggi, questo spazio vuoto, un po' desolato della piazza di Golpedo, Fiumana è invece la folla, la forza, Fiumana è la forza dell'acqua che arriva dirompente e travolge, ecco, allo stesso modo l'acqua di Fiumana diventa la folla dirompente dei lavoratori, la folla di una classe sociale, il quarto stato che non può essere fermato, che la storia deve considerare e che non può più mettere in disparte, che si fa strada, scrive, sode, passa la Fiumana dell'umanità a genti corrette ad ingrossarla, la Fiumana è fatta appunto anche di queste persone che si uniscono uno all'altro e quindi la folla, la massa, ogni volta che noi pensiamo alle manifestazioni dei lavoratori, le manifestazioni di protesta, ci immaginiamo questa massa informe e che si muove, questa idea della Fiumana molto evocativa, molto bella, il restarsi è delitto filosofo, è delitto scusate, filosofo lascia i tuoi libri a metterti alla sua testa, la guida con i tuoi studi e vedete che richiamo all'arte, richiamo agli intellettuali che dovevano guidare queste manifestazioni, artista con essa ti reca ad alleviarle i dolori, con la bellezza che saprai presentarle, ognuno deve fare la sua parte, l'intellettuale, l'artista, operaio lascia la bottega in cui per lungo lavoro ti consumi e con essa ti reca e tu che fai, la moglie il pargoletto teco conduce ad ingrossare, gli intellettuali, gli artisti, gli operai, le donne, la Fiumana dell'umanità assetata di giustizia, di quella giustizia conculcata fin qui e che ora, miraggio lontano, splende, una giustizia sociale che viene evocata ed ecco che vi stavo mostrando appunto l'altro dipinto che vi stavo raccontando prima, non ho trovato un'immagine migliore, perdonatevi, il cammino dei lavoratori è in questo caso un altro bozzetto davvero che comincia davvero ad assomigliare sempre di più a quello che diventerà il quarto stato, vi stavo mostrando intanto questo arco ribassato che fa da cornice a Fiumana e che troviamo anche da qui in poi nella struttura vera e propria del dipinto. Qualcuno ha fatto notare giustamente che, io ve lo facevo notare prima nella inquadratura di questa inquadratura fotografica, l'obiettivo che sfocava a margine di quella foto della piazza di Volpedo, ma qualcuno invece ha proposto una sorta di parallelismo giustamente con le pale centinate, quindi con una tematica quasi religiosa, quasi a dire che la lotta di classe, la working class diremmo all'inglese, necessitava di essere trattata in forma religiosa, quasi fosse davvero un tema che non poteva più rimanere ai margini, come vi dicevo prima, il mondo degli intellettuali, il mondo dell'arte, gli operai perché dovevano lottare, gli operai, i contadini, i falegnami, gli artigiani, la massa dei lavoratori che doveva lavorare, doveva lottare per una propria giustizia sociale per farsi considerare. Questo è il quarto stato, questa è l'opera a cui il nostro Pellizza arriverà, vi dicevo, lascerà in sospeso le precedenti opere, Fiumana in particolare, ma per arrivare a elaborare questa opera conclusiva, che lui conclude appunto nel 1901, Pellizza compirà a questo punto una serie di ulteriori studi, letture, viaggi, contatti con personaggi importanti e ha bisogno di fare una sorta di bagno nella cultura del rinascimento italiano, perché ha bisogno di dare monumentalità, una nuova dignità, una dignità rinascimentale ai suoi personaggi, forse quella dignità che nelle precedenti versioni, nell'essere un pochino ancora troppo evanescente di questi personaggi, ancora un po' troppo affusolati, poco monumentali, forse a maggior ragione qui appena bozzati come davvero schizzi, come appena personaggini macchie, macchiette, ma anche macchiette sociali, ecco aveva bisogno veramente del rinascimento per poter dare una nuova dignità a questa classe sociale, e allora ecco che compie una serie di studi sul rinascimento italiano, sul 400, sul 500, sui classici che noi abbiamo studiato, del 400 e del 500 italiani, e compierà anche una serie di studi fotografici sui personaggi del suo paese, ritrarrà uno a uno i personaggi del suo paese, molti sono stati identificati, io non vi darò nomi e cognomi, in realtà c'è una app molto interessante, elaborata per, si intitola proprio, se cercate sulle app, sugli store delle vostre app, si intitola Quarto Stato AR, sarebbe di realtà aumentata, vi invito a scaricarla e a inquadrare con i vostri smartphone, una qualunque riproduzione, anche quella che vedete in questo momento, dello Quarto Stato, e i personaggi rappresentati prenderanno voce, sentiremo parlare il personaggio centrale, il personaggio laterale, la donna, la moglie, quest'altra donna laterale, questi altri personaggi, sono le loro storie che sono state proprio raccontate, perché possiamo ricostruire i personaggi, ma non è quello che voglio fare con voi adesso, perché in realtà vorrei raccontarvi del passaggio da quello che abbiamo visto prima al risultato complessivo, così, con questa dignità dei personaggi ben evidenziata. A partire dal personaggio centrale, ecco, vorrei farvi notare che il personaggio centrale che secondo qualcuno è identificato con Clemente Bidone, ma con anche Giovanni Zarri, insomma erano due personaggi locali, ma vi dicevo non voglio darvi nomi perché non sono neanche così certa dell'identità, mi devo solo fidare di quello che ho trovato scritto sul web, quindi lascio ai più esperti in questo senso, ma guardate il gesto del personaggio ed ecco che ci viene in mente il gesto del David di Michelangelo, che con questo chiasmo sostiene la sua fionda, così allo stesso modo in cui il personaggio centrale che avanza di questo trittico, di questo terzetto di personaggi che avanza, con una mano sostiene la giacca sulla spalla, con questi pantaloni di fustagno, questo cappello da lavoratore, la mano nel panciotto, le tasche del panciotto o le tasche dei pantaloni, proprio con una dignità, la giacca levata perché è finito il turno di lavoro ma si avanza, si cammina perché c'è una classe di lavoratori che deve essere ascoltata, allora questa dignità gli può essere data anche da questa postura che deriva forse dal David di Michelangelo, o forse molti storici dell'arte hanno messo in evidenza anche il raggruppamento dei personaggi che seguono, raggruppati in personaggi a tre a tre, così come noi sappiamo che a tre a tre erano raggruppati, organizzati i personaggi dell'ultima cena di Leonardo a Milano ed è evidente che Pellizza l'aveva studiata, ristudiata, ma io al di là del raggruppamento in personaggi suddivisi in tre, vi ricordo ancora una volta il moto e il fiato, la gestualità che i personaggi levolardeschi riuscivano a interpretare, a raccontarci ciò che accadeva, allora guardate come queste mani così illuminate ci possano davvero condurre a un percorso nella storia dell'arte che abbiamo già conosciuto, così come molti altri storici dell'arte mettono in evidenza la netta influenza della gestualità, ma della monumentalità, del chiaroscuro monumentale di un masaccio, guardate di nuovo la gestualità, queste mani che indicano il gabegliere, San Pietro, Cristo, davvero, e il chiaroscuro che impone i personaggi in modo molto evidente. Altri hanno voluto ritrovare l'organizzazione a freggio di un Raffaello della scuola di Atene, delle stanze vaticane, della stanza della segnatura in particolare, ancora una volta per la gestualità che era comunque leonardesca anche per Raffaello, ma anche davvero per la impostazione. Ma qui parlavamo dei grandi filosofi dell'antichità riproposti da Raffaello nel Rinascimento, qui parlavamo addirittura degli apostoli di Cristo, si sta dicendo che evidentemente Pellizza vuole dare la stessa dignità alla classe di lavoratori. Stesso discorso vale per la disputa del sacramento, sempre con questa impostazione a freggio dei personaggi, qui padri della Chiesa, addirittura che stanno disputando sulla verità dell'Eucarestia. E in particolare io vi faccio notare questo personaggio identificato con Francesco della Rovere da alcuni storici dell'arte, parente del committente del Papa, Giulio II della Rovere, e che qualcuno nella gestualità non ha torto, vi faccio vedere un pochino più in grande, non ha torto, ha associato alla donna che noi vediamo comparire in fondo a sinistra nel quarto stato e che in realtà sarebbe stata la sorella della moglie dell'artista. Tra l'altro sia Pellizza la Golpedo morirà a suicida nel 1907 e anche il marito della sorella della moglie morirà a suicida, quindi un dramma per entrambe le donne. Ma gli storici dell'arte hanno messo in evidenza un altro elemento sicuramente interessante, qui vi sto mostrando dei dettagli della battaglia di Cosroè di Piero della Francesca al coro di Arezzo, Toscana, no? Quello rinascimento geometrico così tanto monumentale, imponente, importante che Pellizza aveva studiato, in particolare vi mostro dei dettagli per soffermarci su questi cappelli monumentali, volumetrici che Piero della Francesca aveva rappresentato, guardate il sogno di Costantino, guardate l'ombra, non soltanto la forma ma anche l'ombra che si proietta sui volti dei personaggi e guardate allora come questi copricapi dei lavoratori proiettino un'ombra che rende il loro volto ancora più velato, ancora più classico. Ho dimenticato di inserire in questo senso anche il misterioso copricapo del secondo David di Donatello, quello in bronzo, quello che appunto era nudo ma vestito con i calzari e con questo strano copricapo che gli velava lo sguardo, che lo rendeva ancora più, lo rendeva monumentale, lo isolava ancora di più. Di nuovo un dettaglio con questi copricapi, con questi personaggi. Ecco qui appunto la moglie di Pellizza, vedete rappresentata scalza, a rappresentarci ancora quell'umiltà ma anche quella, in fondo la classicità, fatemelo dire, l'idea di una dignità che attraversa la storia. Guardate come questo panneggio monumentale possa risentire di quel panneggio quattrocentesco che vi ho mostrato, vi ho mostrato prima il tributo di Masaccio ma avrei potuto mostrarvi il panneggio di un'Andrea Mantegna ma in particolare sta portando il nostro bambino, la Prole. Guardate questa gestualità molto bella, ancora una volta queste maniche parlano illuminate da una luce che è la luce del futuro, loro avanzano verso il futuro, ma molti storici dell'arte hanno fatto notare che l'incedere, il panneggio dell'incedere di questa bellissima veste non può non ricordarci il panneggio della monumentale nicche di Samotraccia del Louvre, quindi davvero la statua simbolo di un'epoca con questo panneggio meraviglioso, così naturale e davvero vedete quanti sono i riferimenti alla storia dell'arte. Tra gli ultimi che vi presento appunto questo personaggio che guida un bambino è che qualcuno ha identificato con l'Angelo e Tobiolo di Tiziano, ma ci sono altri esempi in tal senso. Devo a questo punto parlarvi, al di là di questo lungo racconto che vi ho fatto della gestazione, beh noi abbiamo davanti l'opera, in realtà il vero nostro lavoro dovrebbe partire adesso. Allora abbiamo detto questa impostazione per il lungo affreggio, io sento quasi il rumore dei passi come se fosse cinematografica come scena, il rumore dei passi dei personaggi, vedete che i passi sono quasi scanditi, fatemelo dire, da queste ombre, dalle ombre accorciate, evidentemente il sole è alto, altissimo, vedete anche le ombre dei copricapi che notavamo, evidentemente è il sole del mezzogiorno che illumina la scena, ma allora fatemelo dire c'è qualcosa che non torna nel tipo di illuminazione, perché Pellizza da Volpedo era, sì puntava questo realismo monumentale ma simbolista, era parte di quel gruppo di divisionisti italiani della fine dell'Ottocento che stavano lavorando e che si stavano, risentivano molto del divisionismo francese, tra un attimo guarderemo anche alla tecnica pittorica in sé, ma guardate che la luce, se da un lato ci vuole evocare questa massa di persone che si lasciano alle spalle il buio del passato, vedete che sul fondo c'è un paesaggio fosco, ombroso, ma a me sembra una luce artificiale, quasi come, vi dicevo, quasi cinematografica, quasi come fossero dei faretti del cinema, ecco perché Novecento davvero il film di Bertolucci calza a pieno con questo dipinto, perché mi sembra proprio di vedere una luce quasi artificiale, questo sole del futuro che i personaggi devono guadagnarsi, che vengono in avanti, una fiducia nel progresso, ma quasi una luce artificiale, perché là in fondo c'è ancora una luce che non è quella, non è verosimile, perché qui sarebbe una luce quasi, no, se c'è così luce, così accecante questo sole e se è mezzogiorno sicuramente là in fondo non dovrebbe esserci questo buio, quindi davvero è un tipo di illuminazione che è assolutamente simbolista e non è naturale. Vi dicevo quasi questi passi scanditi, questo ritmo compositivo, alcuni personaggi scalzi, alcuni personaggi invece vestiti da lavoratori con questi abiti umili, intonati su un'unica gamma cromatica, quella dei colori terrosi, tipici del realismo se vogliamo, no, i marroni, gli ocra, i bruni, questi verdi che hanno a che fare davvero con il colore della natura, questi lavoratori che sono la nuova natura del Novecento, no, sono coloro che vengono in avanti con questa grande dignità, questa grande monumentalità. Se io adesso ingrandisco, sperando che mi regga abbastanza l'ingrandimento, non tantissimo, vorrei parlarvi della tecnica impiegata dal nostro Pellizza. Ci scrive Pellizza, a cui vi mostravo il fatto che in alcuni dei bozzetti l'architettura vera e propria della scena scompare piano piano per lasciare poi davvero lo spazio a questo fondo prospettico naturale, paesaggistico. Vedete che la folla è schiacciata, il punto di vista è all'altezza del nostro occhio, all'altezza umana, noi siamo esattamente davanti ai personaggi e ci viene posta in qualche modo una scelta, la storia cammina in avanti e noi siamo davanti all'opera e dobbiamo scegliere se voltarci e unirci al gruppo dei camminatori, la storia avanza, i camminatori vengono in avanti aspettandosi un futuro più luminoso, fatto di dignità, di diritti. Ma per quanto riguarda la tecnica, vi dicevo, Pellizza scrive che aveva conosciuto, aveva studiato, stava studiando anche sui testi le teorie del divisionismo francese, vi ricordate le teorie scientifiche dei che erano però state messe a punto e impiegate in pittura dai neoimpressionisti, in particolare da Serrat e da Signac e quindi lui utilizza la teoria dei contrasti, dei colori complementari, la divisione del colore, esattamente se noi vedessimo appunto più ingrandita l'immagine, vedremo appunto che Pellizza impiega una tecnica che è fatta di piccoli tocchi, sottili sottili, piccoli filamenti, piccoli puntini accostati che impiegano in parte, non in modo così scientifico, ma impiegano in parte la tecnica appunto del divisionismo di Serrat, un po' perché forse in qualche modo il nostro artista voleva dare una dignità scientifica alla scena, voleva dare autorevolezza a questi personaggi, quindi anche la stessa tecnica forse andava in quella direzione, ma era anche la tecnica della modernità, anche a testimoniarci che Pellizza era assolutamente aggiornato su quella che era il linguaggio più attuale, più moderno dell'ottocento francese, certo nell'ottocento francese stava succedendo di tutto di più, era caduto di tutto di più, c'erano stati tutti gli artisti del post impressionismo, sì Serrat che vi ho citato, ma c'era stato un Gauguin che invece aveva abbandonato le contraddizioni della cultura e della società francese moderna per andarsene verso questi luoghi in lontananza, fuggendo il progresso, invece in questo caso Pellizza vuole assolutamente inneggiare a questa necessità di affrontare il progresso. Concludo proponendovi una opera che all'opera di Pellizza è ispirata e di cui vi parlerò in un video a parte, è un'opera molto importante che è un artista tedesco che si chiama Josef Beuys, scrive in modo molto difficile Beuys, per cui B-U-Y-S e si legge Beuys. L'opera si intitola La rivoluzione siamo noi ed è un'opera fotografica che Josef Beuys realizza nel 1971 quando sarà invitato dalla Modern Art Agency di Napoli, questa galleria d'arte di Napoli di Lucio Amelio, sarà invitato a realizzare una mostra e una serie di operazioni e appunto realizzerà questa La rivoluzione siamo noi, con il titolo proprio in italiano perché è in Italia e ovviamente guardate come questo è lo stesso Josef Beuys che si fa immortalare come il passo di questo artista che incita alla rivoluzione e lui avrà delle teorie molto 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 affascinanti che vi racconterò parlandovi di questa opera tra poco, nel prossimo video che realizzerò per voi, vi racconterò appunto come questa opera è necessariamente ispirata a questo incedere dei lavoratori del quarto Stato.